La festa di San Pietro è tradizionalmente la manifestazione di apertura dell'estate saccenze. Festeggiamenti riconfermate anche quest'anno, assieme ad un'altra iniziativa entrata a far parte del cartellone estivo di Sciacca ormai da tempo, l'Azzurro Fest, che si svolgerà a fine agosto. Già noti i nomi di due appuntamenti musicali in programma inseriti nella manifestazione, rivelati non dall'organizzazione dell'evento, ma direttamente sul web dagli stessi artisti. Stiamo parlando del concerto del gruppo reggae Bum da Basce il 24 agosto e di Francesco Renga il 26 agosto. Ad esibirsi quindi un gruppo pugliese che a reggae ha aggiunto sonorità sole e pop, forse poco conosciuta e più, e di un solista invece tra i più noti dell'attuale panorama musicale italiano. Siamo quasi a luglio ed era quindi inevitabile si iniziasse a parlare di estate saccenze. Un ventaio di appuntamenti che cade a ridosso delle elezioni del nuovo sindaco di Sciacca, Francesca Valenti, alla quale spetterà il compito di coordinare le iniziative già in programma da associazioni e privati. Inizierà domani letterando in fest e ad agosto, sempre alla Badia Grande, grazie al patron della Vertigo SRL, Sino Caracappa, si proseguirà con lo Sciacca FinFest. Il 15 luglio tornerà la caccia al tesoro fotografica Life Memorial Fabrizio Piro, organizzata dall'altra Sciacca, associazione che sempre in memoria del fotoreporter scomparso, riproporrà assieme ad amici e parenti di Piro la mostra Life, probabilmente all'altro superiore del comune. Sempre l'altra Sciacca, assieme alla cooperativa Gorà che gestisce il Castello Incantato, dal 21 al 23 luglio allestirà una mostra fotografica su Filippo Bentivegna in zona San Michele, vicino alla casa natale dell'esponente dell'Art Brut, mentre a settembre si terrà il decennale di Sciacca vista da noi con i migliori scatti della mostra. Dal 17 al 20 luglio il Borgo dello Stazzone tornerà poi ad ospitare lo Street Food Fest e probabilmente saranno anche altre le iniziative che si susseguiranno da luglio ad agosto. Il nuovo sindaco appena insediato, come dicevamo, dovrà sì coordinare un po' tutte le iniziative in programma a costo zero per le casse comunali, ma anche cercare, se possibile, di incrementare il cartellone con delle novità.